ehi la buongiorno buon mattino a tutti buon 16 gennaio san marcello primo che succede siamo nel 303 dopo cristo le grandi persecuzioni cristiane cristiani vengono massacrati uccisi mangiati torturati biscottati muoiono a mucchi ma ci sono anche quelli che hanno paura non vogliono farsi mangiare dei leoni e abbiurano la fede fanno il peccato di apostasia dicono no guarda per favore preferiscono non essere mangiato che chi c'è da adorare a pollo va bene offro sacrificiato a pollo che questi vengono chiamati i lapsi succede che questi lapsi sono i traditori e quindi che ci fai coi traditori all'interno della chiesa c'è un grande problema se ammettere o no questi lapsi alla comunità dopo averli quando finiscono le persecuzioni san marcello era cattivissimo quei lapsi sei lapso via te ne vai punizioni severissime perché povero san marcello era stavodicchiato tanto da diocleziano viene anche messo viene torturato e viene messo a guardia dei cavalli infatti lui è il protettore degli stallieri questa cosa cambierà poi con sant'agostino sant'agostino dirà no i lapsi possono tornare sant'agostino concepirà una chiesa per mixta cioè che significa una chiesa mista dove c'è posto per i peccatori ma anche per i santi buon san marcello a tutti ciao ciao